Leatherface tagliò il vecchio per farne uno strano costume. Forse ora che era morto, la bella ragazza bionda con il chewing gum avrebbe notato Leatherface. Dopo aver indossato la sua maschera migliore, egli trovò la base militare dove la ragazza passava gran parte del suo tempo. Dovette farsi strada tagliando qualche guardia e molti amici della ragazza per trovarla, ma ne valse la pena. Si tolse la maschera del vecchio, che aveva conservato come regalo per lei. La ragazza non accettò il regalo, e non per questione proposta. Leatherface la ridusse a brandelli da dare a Trayton per il suo cibo. Poi si tolse la maschera e si mise al lavoro sul viso della ragazza, anche se non sarebbe stata la sua fidanzata, poteva essere sua in altri modi. Fa paura il finale delle Otherface.